Per fare la plastilina in casa, versa un sacchetto intero di marshmallow in una ciotola adatta al microonde. Poi aggiungi 320 grammi di amido di mais. Mescola bene, quindi aggiungi 80 millilitri di un olio vegetale qualsiasi, come quello di canola o d'oliva. Per finire, incorpora 3 cucchiai di acqua. Cuoci la miscela nel microonde per 30 secondi, poi rimuovila dal forno e rimescola. Continua a farla cuocere nel microonde e a mescolarla fino a quando il composto non si sarà sciolto completamente. Dovrebbero volerci circa 2 minuti. Infine, stendi, piega e strizza l'impasto per renderlo liscio e omogeneo. Conservalo in frigo fino a una settimana dentro un contenitore a chiusura ermetica.